Si è iscritto a parlare il consigliere Lacorazza, chiedo al consigliere Polese di venire a svolgere le funzioni di consigliere segretario qui al tavolo della Presidenza. Sì, grazie Presidente, ho chiesto di intervenire adesso perché avendo preso già da un po' di settimane un impegno a lavello dovrò lasciare i lavori del Consiglio e però il tema è tanto delicato da dover lasciare traccia di un contributo in questo passaggio di fase della vita regionale, istituzionale e politica. Per la verità ero tentato questa mattina nell'utilizzo dei social, ho provato a motivare un post su Facebook, ho provato a motivare il perché, ero tentato di ripubblicare l'audio di un intervento che nel 2011, ero Presidente della provincia in quell'anno, fece a Vigiano in una due o tre giorni promossa dalla regione Basilicata dal titolo Copam. Ero quasi portato a far sentire quella registrazione, Presidente Mollica, chiedendogli ovviamente il permesso, ma poi ho pensato che era giusto, opportuno aggiornare quella riflessione, tutta valida, ma utile a comprendere che il percorso di posizioni assunte nel corso di questi anni, nel 2011 era un'altra stagione politica, a una sua linearità. Lo dico non per sottolineare personali posizioni, ma perché per ciò che dirò fra un attimo vorrei che questa discussione, questa mia dichiarazione, questo mio intervento, fosse letto con le chiavi del merito e anche delle responsabilità che fino ad oggi ci sono state. Il 2011, lo ricorderemo e lo ricordate, era l'anno della firma del memorandum che avrebbe aperto le porte molto probabilmente ad una maggiore attività estrattiva in quell'area. Sono chiare e note le posizioni di quegli anni, non le riprendo. Era l'anno dell'inaugurazione dell'osservatorio ambientale a Marsico Nuovo. Era l'anno anche in cui alcuni di noi si facevano carico di un'altra idea di sviluppo sostenibile in questa regione, promuovendo incontri, addirittura portando nell'aula magna dell'Università di Basilicata un punto di riferimento della sostenibilità e delle energie rinnovabili e alternative come Jeremy Rifkin. era il 2011, quindi parliamo di sei anni fa. E quindi c'è qualche domanda in più che questa vista, lo dico all'assessore Pietrantuono, ci pone, mi pone, rispetto ad uno studio che dovrà essere ancora più approfondito. Tuttavia però le domande non possono non essere riproposte in questo contesto consigliare. Circa due anni fa, era il 30 settembre del 2015, dieci regioni, quindi siamo al secondo compleanno, dieci regioni capofila alla Basilicata depositarono i quesiti che avrebbero dato vita a prima le modifiche dell'articolo 38 dello Sblocca Italia e poi al referendum del 17 aprile. Non oso immaginare cosa sarebbe accaduto oggi alla luce di questo studio importante se fosse passato l'articolo 38 dello Sblocca Italia. e devo anche aggiungervi, non so cosa oggi sarebbe accaduto se fosse passata quella riforma del titolo quinto. Qui non si tratta, lo voglio sottolineare, ancora una volta di porre il tema non un barile in più perché mi pare scontata questa discussione ma al non un barile in più corrispondeva la cessione di potere e di sovranità verso lo Stato. Lo sottolineo per dovizia di particolari e di merito. C'era una strategia energetica nazionale nel 2013 molto chiara e molto netta. Decreto interministeriale e clini passera raddoppio della produzione in Basilicata. Oggi è cambiata la strategia energetica nazionale o tenda di cambiare io ho sollecitato l'assessore lo sa spero che questo lavoro sia stato fatto c'è stata la valutazione di ambientale strategica sulla nuova strategia energetica nazionale che appare neutra non vorrei che a un certo punto della discussione quando le decisioni dovranno essere assunte a valle della valutazione ambientale strategica questo tema del petrolio ritorni ancora nel nostro paese e nella nostra regione. Perché questa considerazione? Questa considerazione la faccio perché nel corso di questi giorni io ho misurato e mi sono chiesto il perché lo spazio tra il risultato della vis non ancora ovviamente definitivo ma comunque rilevante per quello che ci ha detto e il clamore che è stato suscitato oppure la relazione tra i fatti e la percezione di quello studio. Perché questo è accaduto? Perché innanzitutto prima ancora delle questioni di merito si è incrinata una relazione di fiducia tra la politica e la società regionale tra le istituzioni e quel territorio è in questa crisi è in questa crisi di fiducia che si è inserita l'iniziativa meritevole dei due comuni Vigiano e Grumento che parte lo voglio ricordare è stato anche sottolineato nel momento di grande difficoltà se non di vuoto di chi avrebbe dovuto l'ha sottolineato in un'intervista il sindaco di Vigiano forse attivare prima e meglio azioni di questo tipo mi permetto di dirlo in questo contesto esattamente per quell'audio del 2011 a cui ho fatto riferimento e non ci voglio ritornare più su quel tema lì. Ora cosa è accaduto in questi anni? E aggiungo apro una parentesi eviterei su quello che doveva essere un contrappeso al petrolio cioè quello del parco dell'Appennino Lucano di fare operazioni che diano il segno diverso da quello di un vero equilibrio tra natura e petrolio che sono elementi che introducono grande difficoltà e grande perplessità mi riferisco anche agli assetti di governo del parco perché a questo si aggiungono le difficoltà sulla vicenda dell'indagine epidemiologica medicina ambientale dissesto ambientale il 26 maggio era assessore berlinguer interrogazione stato di attuazione di attività di monitoraggio ambientale ARPA le ricordo queste cose perché Luca sono stati oggetto di riflessione in questo contesto con tante tante posizioni assunte e sempre valutate mai nello spirito costruttivo e di accelerazione per ricostruire quella relazione di fiducia ma sempre con altri significati con altro senso con altra direzione quella dichiarazione o quella discussione in consiglio regionale partiva da dichiarazioni del direttore di ARPA Bedmondo Giannicelli che nella seduta della seconda commissione del 28 di aprile dello stesso anno dichiarava il fallimento delle precedenti gestioni dei ARPA sono cose che stanno agli atti di quella commissione e che generano ne hanno generato nella relazione con le comunità disincanto sfiducia ma come? siamo a questo punto che un direttore generale di ARPA dice che quelle precedenti non sono state a livello non sono state adeguate con tutte le responsabilità politiche e amministrative che ci possono essere schiassi l'abbiamo nominato noi eppure in quella discussione in quel ragionamento che facemmo allora perciò è importante oggi cominciare a ricostruire questa storia ci fu anche detto lo dico al collega Santarsiero e ad altri che in quella discussione misero anche posizioni molto delicate che noi stavamo ritardando l'attuazione assessore Pietranduono l'attuazione del piano annuale triennale ARPA come da legge 37 del 2015 perché perché volevamo dire attenzione la procedura che si sta seguendo non è quella corretta proviamo a rifletterci meglio a capire se c'è questo spazio questo accadeva un anno un anno e mezzo fa investimenti sulle tecnologie di ARPA risorse del personale gare bandi scambi di lettere tra stazioni appaltante e ARPA sono cose documentabili documentate questa percezione questa questi fatti hanno prodotto all'esterno ulteriori elementi di sfiducia verso questa istituzione mi ci metto anche io poi dovremmo discutere nel merito quando e come le cose sono state dette che tipo di risposta c'è stata ma è un altro tema è un altro tempo ma non c'è dubbio che su questo elemento come dire qualche battuta dal resto si è registrata e quel piano triennale di ARPA è stato oggetto di emendamenti presidio ARPA in Val d'Agri è stato oggetto di emendamenti anche del potenziamento del personale delle autorizzazioni ambientali assessore quante discussioni abbiamo fatto in commissione del dire non ce la facciamo ad avere strutture adeguate sul piano delle autorizzazioni ambientali proviamo a potenziarle eppure il tempo che è passato per effetto delle procedure amministrative dell'incertezza bene ma il tempo che è passato ha rotto ancora di più questa relazione di fiducia 26 maggio 2016 stato di attuazione posto il tema due temi fondazione osservatorio ambientale regionale e centro medicina ambientale studio di epidemiologia assessore lì noi avevamo immaginato sull'osservatorio ambientale parla chi ha dato un contributo anche di merito in commissione su quello statuto e non c'erano opinioni diverse sulla trasformazione dell'osservatorio ambientale in fondazione c'era la necessità forse di modificare lo statuto questo fu l'impegno in consiglio regionale allora eppure da allora nulla è accaduto e oggi questa fondazione questo osservatorio è o non è un altro elemento di crisi tra noi e quella comunità lo so io lo sappiamo tutti che la funzionalità di questo osservatorio che prima c'era nella relazione importante col CNR oggi vive una fase di difficoltà o meno questo è qualcosa che pongo io e quello che in qualche modo ci racconta la la comunità vi ricordate quella fondazione nasceva con la doppia tipologia di soci soci fondatori e soci partecipanti qual è stato il processo partecipativo che ha messo in moto il dialogo con gli enti locali non la lettera a lanci non la lettera a lanci tale da far assumere il tema dell'osservatorio ambientale come un polo di riferimento tecnico scientifico utile a reperire risorse umane competenze professionalità all'altezza di una multinazionale di una lobby che presenta ai tavoli in maniera diciamo molto robusta avvocati ingegneri per contrastare e far vingere una propria idea mi riferisco a Lenio e le compagnie petolifere evidentemente e poi la vicenda della medicina ambientale e l'indagine epidemiologica DGR 20 giugno 2014 si istituisce con delibera di giunta il centro di medicina ambientale ospedale Villa D'Acri articolo 17 legge 5 del 27 gennaio 2015 si stanziano lo dico perché lì c'era anche la mia firma la mia proposta 750 mila euro in conto capitale per il centro di medicina ambientale a Villa D'Acri 300 mila euro sulla spesa corrente per gli anni 15 16 e 17 e in quella norma nello stesso articolo 17 si stanzia un milione e mezzo di euro per l'indagine epidemiologica parliamo di gennaio 2015 con DGR 320 29 marzo del 2016 siamo a più di un anno e qualche mese questa attività viene affidata perché nel frattempo era nata per 600 mila euro alla fondazione Basilicata ricerca biomedica nata sul finire del 2015 tutto questo tutto ciò che sto dicendo è frutto di interrogazioni di audizioni promosse in commissione Presidente Bradascio ci venne a riferire la fondazione ci venne a riferire in data 23 marzo 2017 2017 perché all'interrogazione sul centro di medicina ambientale Assessore Franconi non c'è stata risposta e quindi parliamo di giugno 2016 e quindi a gennaio del 2017 disse visto che non c'è risposta chiamiamo la fondazione e l'assessore in commissione venne la fondazione rappresentata da la dottoressa Modio e da Martorano 23 marzo 2017 in cui si annunciava che l'11 aprile il comitato unico regionale avrebbe dovuto esaminare il progetto dell'indagine epidemiologica 23 marzo audizioni l'11 aprile si sarebbe dovuto fare questo passaggio e potrei citare atti posizioni ciò che fino a questo punto per non parlare del centro di medicina ambientale a Villa d'Agri in qualche modo è stato detto vi leggo solo questo passaggio dell'audizione della commissione parliamo quindi di marzo 2017 la norma dell'indagine epidemiologica un milione e mezzo di euro è del 2015 l'11 aprile il comitato etico sono le parole di Attilio Martorano dovrebbe esaminare il progetto dell'indagine epidemiologica in Val d'Agri 11 aprile e poi vai nel merito alla luce di questi dati l'indagine epidemiologica studierà i casi di malattie respiratorie cardiovascolari e oncologiche su un campione significativo della popolazione per valutare innanzitutto sulla base di schede di dimissione se l'incidenza di queste patologie è maggiore di quella registrata in zone dove non ci sono attività petrolifere potrei continuare è proprio quello che è accaduto un po' con la vista e la discussione a cui abbiamo partecipato con Vito Sandarsiero alla presentazione all'hotel Arpa a Vigiano chiudo perché ho sforato nei tempi perché ho letto e ho fatto ho dato questo contesto le conclusioni sono brevissime e operative perché io penso che non tutti siamo stati sulle stesse posizioni perché le cose che servono sono quelle che si fanno ma che si fanno nei tempi giusti nel migliore dei modi questi sono i tratti di una discussione che noi dobbiamo oggi inevitabilmente nei prossimi giorni settimane fare per arrivare a che tipo di valutazione primo cioè secondo me la necessità lo ha detto Pietrantuono condividuo di lavorare e fare in modo che questo rapporto continui ma questo rapporto può continuare solo sui comuni di Grumento e di Vigiano perché è del tutto evidente che la forza economica di quei comuni ha consentito una valutazione di impatto sanitario e gli altri verso i venti dove vanno Montemurro Spinoso ma può riguardare un areale abbastanza complesso della Val d'Agri allora ci può essere all'interno di un territorio una valutazione di impatto sanitario che non riguardi anche gli altri comuni si è scritto ai ministeri bene la risposta che secondo me oggi è necessario dare come istituzione regionale non ritorno sui ritardi ve l'ho già detto sui limiti è chiaro le responsabilità pure adesso cosa accade non basta solo dire abbiamo scritto ai ministeri c'è un milione e mezzo di euro sull'indagine epidemiologica già dal 2015 ci sono delle risorse 600 mila alla fondazione ricerca biomedica a che punto siamo siamo in condizione di coordinare questi tavoli e se andate a leggere lo statuto della fondazione osservatoria ambientale lo statuto della fondazione ricerca biomedica e anche la stessa legge 37 gli strumenti Aurelio si parlano e allora qui questo tema per esempio è un tema seconda conclusione è un tema che deve essere assunto fino in fondo nel nostro piano sanitario oppure no io ho visto che il consigliere Mollica con il quale siamo parlati ha fatto proprio la discussione perché per esempio è emerso a Rio Nero qualche giorno fa ma il tema della relazione tra ambiente e sanità deve essere un pezzo di rilevanza all'interno di un piano sanitario non è un tema di dire faccio lab oncologico a Rio Nero ci sta il punto è la relazione strategica che su questo tema inserisce affronti coordini in termini di asset principale in una regione come la nostra che ha ancora ferite aperte penso a titolo a Valbasento ferite aperte a Vigiano o ferite diciamo non rimarginate a Fenice o a Rotondella cioè questo tema secondo elemento di valutazione è un tema che viene assunto fino in fondo nelle scelte strategiche di piano e di programmazione Presidente Bradascio mi fa piacere che annuisci che assume una caratterizzazione vera e evidente all'interno del piano sanitario regionale collocando e costruendo nella relazione tra i territori un punto di riferimento di grande qualità sul tema della medicina e dell'ambiente e poi e chiudo tavolo della trasparenza c'è una legge io penso che il tavolo della trasparenza va convocato esattamente come la legge prevede articolo 22 della legge 4 del 27 gennaio 2015 la procedura di quella convocazione è codificata in quella legge anche nella relazione con la commissione conseguente quarto punto le azioni conseguenti sulle matrici ambientali io ho ascoltato in un'intervista il Presidente Pittella che ha detto se ci sarà da chiudere chiuderemo io consiglio consiglierei come ho fatto in Consiglio regionale quando è stato chiuso il COVA che oggi c'è una reale corrispondenza tra atti amministrativi perché la domanda che si pone il cittadino è adesso che si fa si chiude o ci sono legittimamente alcune associazioni che sono presenti anche qui stasera che dicono chiudere attenzione c'è una corrispondenza tra quella indagine ed una procedura che può portare alla chiusura del centro oli perché se questa coincidenza o questo fatto ancora non è provabile non è provato si alimentano ulteriore aspettative quindi bisogna essere chiari anche su questo punto in relazione esattamente a ciò che adesso è necessario fare concordo con l'assessore Pietrandone mi riferisco in particolare alle emissioni ma molto velocemente perché i prossimi mesi passeranno e io non vorrei che come è accaduto per il programma operativo Valdagri risorse su cui ci attendono risposte concrete anche per la valutazione di impatto sanitario si corre il rischio di non dare una conseguenza una celerità e una qualità alle scelte che dovremo compiere nei prossimi mesi grazie collega